E' bello non ti agitare, ho tutto sotto controllo, questo ciucciabanana è mio. Sai una cosa? Una volta è venuto Michael Jordan su questa spiaggia. Me lo sono trascinato fin sotto canestra, non sembra vero, ma glielo ho messo nel culo a Giordano. Sì, ma anche io, ho filmato tutto, tutto ho filmato. Michael mi ha detto, ehi, doversi giocare nel campionato professionistico. Io ho detto no. Ha detto no. Certe stronzate potrebbero rovinare il mio gioco. Se il gioco va a puttani abbiamo chiuso, signor Billy. Avanti e buttate.